www.pierpaolo.com 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 Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato... Io non l'ho mai vista da queste parti. Io vengo da lontano! Perché i giovani amano tuttora Pasolini? Perché Pasolini era rimasto giovane. Pasolini ha cambiato la vita a un numero incalcolabile di persone.